Ciao ragazzi sono 7, benvenuti in un nuovo video. Ragazzi, ragazzi, ho visto il nuovo trailer di Assassin's Creed Valhalla e ho tante cose da dire, ho veramente tante cose da dire, poiché questo capitolo, per chi, diciamo, non avesse ancora l'opinione del fatto che l'ultima stagione di Vikings e Assassin's Creed Valhalla siano collegati in qualche modo, adesso bisogna rinunciare a tutte le vostre credenze, perché chiaramente questo trailer ci dice non solo che Assassin's Creed Valhalla è un diretto proseguimento, se vogliamo, di quello che avviene in Vikings, ma anche il fatto che c'è una trama oltre ovviamente, diciamo, la storia vichinga, ma anche la storia fittizia tra assassini e templari e in questo video cercherò di trattare al meglio, appunto, l'argomento. Sono molto curioso dal punto di vista puramente del gameplay, se ci sarà la possibilità di fare razzia, andare in giro a decapitare teste, insomma, incendiare case, insomma, io sono anche abbastanza sadico, quindi mi chiedo scusa quando gioco sono abbastanza sadico, quindi voglio avere la conferma che effettivamente possa bruciare, decapitare, saccheggiare come mi pare, perché sarebbe davvero una bella conferma per me. Quello che sappiamo prima di tutto vorrei parlare del nostro protagonista, ossia Eivor, che ricordiamo può essere sia uomo sia donna, a meno da quanto risulta. Infatti Eivor è in Norvegia, regno del regno di Norvegia, con suo fratello Sigurd, Sigurd che però non è Sigurd Snake in the Eye, cioè serpe nell'occhio, è Sigurd, un Sigurd suo fratello, che ha intenzione di andare a conquistare nuove terre per la sua gente ed occuparle militarmente. A fianco suo c'è Eivor, suo fratello minore, evidentemente minore, che ambisce a rendere l'Inghilterra un luogo in cui i vichinghi possono stabilirsi e vivere in pace. Quindi già questo, già questo, la scoperta nuove terre per dare una speranza al suo popolo, come dirà successivamente nel trailer, dà chiaramente un'impostazione simile a quella di Ragnar, ovviamente. Questo è palese, cioè il fatto che vuole scoprire nuove cose, avere una nuova casa per dare al suo popolo per una prosperità futura. Questo è chiaramente, coerentemente, affiancato alla figura di Ragnar Lothbrok. Infatti Eivor, secondo me, ricalca molti, non solo l'aspetto, ma anche molti degli aspetti di Ragnar, a mio parere, in questo trailer. E lo vediamo appunto che Sigurd si affianca alcuni alleati che sono chiaramente degli assassini. Si vede dai cappucci, dalle desti, sono chiaramente degli assassini. Non capisco però il modo in cui legheranno la storia principale delle appunto invasioni vichinghe con la trama degli assassini contro i Templari. Ma penso che c'entra anche la figura di Alfred, che scopriremo in seguito, è chiaramente legato ai Templari. Si capisce benissimo non solo dal trailer precedente in cui firma quella lettera, ma anche dal modo in cui si pone, dal fatto che va contro Eivor, che ha la lama acelata, che chiaramente è qui, però non è qua, è qui, è una lama acelata particolare, chiaramente un Templare. Vedremo come si svilupperà questa storia tra assassini e Templari. Ma grazie all'amico luogotenente Gian del mio gruppo su Whatsapp, che siamo nella mia community, ti ringrazio Gian per queste informazioni, caro luogotenente, ho appreso che appunto il gruppo di quelli che sono insieme a Sigurd, mentre torna tra l'altro da un viaggio a Costantinopoli, sono, in verità, apparono come, diciamo, personaggi che non stanno bene nel trailer, da dove cavolo vengono. In realtà sono, fanno parte di un gruppo occulto che viene da Costantinopoli. Costantinopoli che, se la memoria non mi inganna, in questo periodo dovrebbe essere ancora sotto, ancora la dominazione dell'impero romano orientale, quindi effettivamente c'è ancora l'impero romano da quella parte. Quindi il, diciamo, il fatto che vengano da Costantinopoli è molto, molto interessante, perché da quelle terre, comunque nel Medio Oriente sotto lì, anche se Costantinopoli in realtà è ben piazzata in maniera diversa, comunque è una zona in cui, credo, gli assassini potrebbero essersi diffusi. In questo modo parte, c'è una scusa applausile, perché arrivi in Norvegia. Del fatto del perché un vichingo arrivi a Costantinopoli in questo periodo storico, come soprattutto faccia che non sia Bjorn, questo mi lascia un po', diciamo, perplesso, ma vedremo, vedremo, vedremo. Parlando in maniera più particolareggiata anche di Eivor, voglio capire esattamente che cosa intendano per poeta e guerriero, per, appunto, navigatore e per scopritore. Diciamo che Eivor, se vogliamo, è una sorta di uomo vitruviano norreno, in quanto sa fare tutto, sa combattere, sa navigare, sa scrivere, sa poesie, sa cantare poesie, appunto, sa fare di tutto, praticamente, una specie di uomo vitruviano del vichingo, norreno, chiaramente, dovuto alla battaglia e all'onore, ma anche a un aspetto molto, molto umano che, appunto, lo particolarizza. E io sono curioso di vedere come conosceranno questi aspetti del uomo vichingo selvaggio che attacca e razza tutto, che è quello che voglio vedere, e invece l'uomo più riflessivo, più attento, diciamo, alla sensibilità dell'essere umano, più legato, appunto, alla spiritualità. Ecco, la spiritualità è un altro aspetto che vorrei vedere presente all'Italia di Assassin's Creed Valhalla, magari Eivor che si rapporta al divino con un occhio di riguardo, oppure che, appunto, abbiamo visto il precedente Tyler che urla Odino è con noi, quindi chiaramente devoto a Odino, e vedremo come questo aspetto della spiritualità si legherà alla storia di Assassin's Creed. Spero in maniera abbastanza decente. Quello di cui vorrei parlare, inoltre, in maniera molto più ampia, è l'invasione dell'Inghilterra, che dal 3 ci viene detto che è spartita tra The Cunning Alfred, cioè il resistente, il tosto, Re Alfred, The Cunning, anche in senso negativo, se vogliamo, Cunning, il tosto in senso negativo, Re Alfred del Wessex. Quindi Wessex è già l'ultimo regno dell'Inghilterra, rimasto libero sotto gli autoctoni in inglesi, mentre tutti gli altri sono i domini dei figli sanguinari di Dagnar Lothbrok. Ragazzi, allora, io credo che probabilmente in questa campagna, che ovviamente porterò sul canale integrale, troveremo i figli di Dagnar Lothbrok, ossia probabilmente, molto probabilmente, troveremo Ube e Ivar. Secondo me Ube e Ivar li troveremo quasi sicuramente, forse anche Vizzerk. Bjorn non so, perché Bjorn, come ho già affermato più volte, non è che in Inghilterra sia stato più di tanto in quanto esploratore, quindi non so se Bjorn lo vedremo, ma sicuramente io penso che vedremo Ube e Ivar, almeno anche Vizzerk, se vogliamo. Mentre di Sigur Serp è nell'occhio, non so effettivamente che fine abbia fatto dal punto di vista storico. Qualcuno me lo scriva qua sotto nei commenti, probabilmente potremmo anche trovare lui all'interno di questo gioco. E personalmente io muoio dalla curiosità di vedere in che modo hanno realizzato i figli di Ragnar, oltre che anche la figura di Alfred, che qui vediamo ovviamente maturo, è un Alfred maturo, simile a quello che vediamo in The Last Kingdom, un Alfred che ha preso il potere, quindi è già re, e che deve appunto fronteggiare l'invasione dei vichinghi per unificare l'Inghilterra, ma prima di tutto per proteggere il Wessex, l'unico regno rimasto libero dell'Inghilterra, degli appunto degli inglesi. Quindi sono davvero curioso di vedere come Alfred manipulerà, diciamo, la situazione a suo favore per portare l'Inghilterra appunto all'unificazione, a predominio inglese. E sono anche curioso di vedere come verranno presentati per i figli di Ragnar Lothbrok. Ovviamente non saranno, come abbiamo visto nella serie TV, con i voti caratteristici, ovviamente saranno del tutto diversi, come abbiamo avuto forse modo di vedere nel trailer, non so se fossero effettivamente loro, ma ovviamente saranno di voto diverso, con personalità probabilmente diverse, con, diciamo, credi molto diversi l'uno dall'altro, ma voglio capire come verranno sfruttati e se verranno particolareggiati a livello narrativo. E sono curioso di sapere se apporteranno ai Templari oppure agli Assassini, oppure nessuna fazione in realtà. Vediamo, vedremo. Sono molto curioso riguardo a questo. Per tornare un attimo al discorso dei Templari contro gli Assassini, sono curioso di vedere come, chiaramente insieme ai suoi alleati, Eivor sarà introdotto al credo degli Assassini, che in questo periodo, a meno che la memoria non mi inganni, beh, potrebbe esserci tranquillamente, in quanto ricordiamo che il primo Assassino, che era, se non ricordo male, Bayek dell'Egitto, perché è una storia di molto, molto tempo fa, infatti in Origins, si è ad appunto Bayek e Amoneth come i primi Assassini. E' prima delle vicende di Altair, poiché la terza crociata, se non ricordo male, avvenne nel 1100 qualcosa, qui siamo ancora nell'800-900 d.C. quindi è precedente alle vicende di Altair, quindi mi chiedo come si legherà e in che modo Eivor entrerà nella storia universale degli Assassini contro i Templari. Sappiamo benissimo che la storia ha preso delle pieghe, diciamo, non sempre positive, ha perso un po' del suo, diciamo, charme, soprattutto a mio parere dopo la morte di Desmond, ma vediamo se effettivamente ci sarà la possibilità di rinalzare nuovamente la storia, chissà se riprenderemo le vicende di Lara, che abbiamo visto già in Assassin's Creed Origins e Odyssey, vedremo se ci sarà anche stavolta e vedremo appunto se la storia avrà un senso che possa ricollegarsi e che sia una storia abbastanza vincente, lo spero proprio. Ma il punto è che mi interessa questo confronto anche non solo fisico, che vediamo appunto Eivor e Alfred che si scontrano nel senso in una battaglia, cioè uno di fronte all'altro, ed è anche ideologicamente chiaramente l'incontro tra Assassini e Templari. Sono curioso di capire come si intricherà la storia, spero che la cara Ubisoft non faccia minchiate perché se no mi arrabbio. Quindi ragazzi, per me è tutto. Credo di aver detto praticamente tutte le cose. Se qualcosa mi è sfuggito e qualche informazione non mi è stata appunto riportata, scrivetelo qua sotto nei commenti per favore che mi fa sapere che cosa c'è di nuovo, in quanto sono sempre contento di ricevere informazioni da voi e irrimedialmente mi scappa qualcosa all'interno dei video. Quindi grazie a tutti per le informazioni che mi darete se me le darete. E niente, ci rivediamo al prossimo video. Io credo che questo gioco sarà probabilmente una delle prove più importanti per Ubisoft perché dopo Odyssey non è che mi sia piaciuto particolarmente a parte il fatto che la mitologia greca non è che mi faccia impazzire più di tanto e quindi io ho guardato anche con occhio di bias SMAO, The Sims 6 non è che vi abbia sembrato tanto come gioco spero che Ubalalla Ubisoft possa riscattarsi. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!